Anche a Potenza la Polizia di Stato ha celebrato il suo patrono San Michele Arcangelo. Come da tradizione in mattinata è stata celebrata una messa nella cattedrale di San Gerardo, celebrata dal vescovo metropolita di Potenza Muro Lucano Marsico Nuovo, Monsignor Salvatore Ligorio. Alla celebrazione hanno partecipato oltre i vertici alle donne e agli uomini della Polizia di Potenza anche le massime cariche militari e istituzionali del capoluogo di Regione Lucano. San Michele Arcangelo fu proclamato patrono e protettore della Polizia di Stato da Papa a Pio XII il 29 settembre del 1949 per la naturale assonanza con la missione assolta quotidianamente con professionalità ed impegno da ogni singolo operatore. Chiamati ogni giorno ad assicurare il rispetto delle leggi, l'ordine e la sicurezza dei cittadini e che trova la sua sintesi nel motto Sublegge Libertas. È un momento a cui teniamo molto perché tutti i poliziotti sono molto legati al loro santo patrono, San Michele Arcangelo. Quindi questa per me è una giornata di festa, è una giornata in cui ci si ritrova, si fa anche un po' il punto di quello che si è fatto durante l'anno e direi anche soprattutto sia modo di incontrare anche gli appartenenti alle forze di polizia, a tutti i vertici istituzionali della provincia che in questa circostanza si stringono intorno alla polizia di Stato. Nel libro dell'Apocalisse troviamo proprio la lotta tra il male e il bene e si deduce che il male si vince sempre con il bene e il bene vince sempre il male. Questa è una protezione di scelta che ognuno di noi deve compiere, soprattutto gli agenti di polizia di Stato che sono chiamati ad essere vicino alla gente nel dover tutelare continuamente il dono della vita, tutelare il dono della giustizia, tutelare anche le varie manifestazioni che accadono. Grazie a tutti.